Dopo la mia mancata firma dinnanzi al notaio per sfiduciare Melucci, ne ho sentite di tutti i colori. Ho voluto tacere momentaneamente, ho voluto che certi detrattori si sfogassero, che qualcuno deluso manifestasse liberamente il suo dissenso, la sua delusione, ma ora voglio dire qualcosa, posso dire la mia? Penso proprio di sì. Tanto per cominciare, sono partite, stanno per partire ulteriori querele nei confronti di chi mi ha diffamato, addirittura ho sentito cose ridicole. Io avrei ricevuto 100.000 euro da qualcuno da Massafra, è che ho vinto al superenalotto, ma ne ho sentite di tutte. Ho sentito offese alla mia persona, qualcuno ha anche detto devi morire di tumore, devi fare una fine peggiore di quella che ha fatto tuo padre. E dinanzi a queste accuse, ma a queste offese proprio gravi, ho deciso momentaneamente di bloccare la voce commenti ai miei video, ai miei interventi su Facebook. Non perché voglia violare, così calpestare il confronto democratico, ma poi si arriva a un punto in cui si va troppo oltre la critica e il dissenso. Io l'ho detto, il 3 febbraio ho presentato in aula una mozione di sfiducia al sindaco Melucci, avevamo raccolto 15 firme e quindi doveva essere discussa in aula. Il signor Bitetti e la signora Fornaro, o meglio, il signor Bitetti si è presentato in aula come presidente e non poteva ovviamente sottrarsi. La signora Fornaro, Stefania Fornaro, invece consigliere comunale, quel giorno era a ridere, a scherzare, a festeggiare con la maggioranza. Era appunto al primo piano di Palazzo di Città, c'era anche un rinfresco e l'era felice affacciata al balcone. Stefania Fornaro dunque non entra in aula con il resto della maggioranza e così viene meno il numero legale per discutere e votare la mozione di sfiducia al sindaco. Quella signora Fornaro che aveva anche, era andata col sindaco a Roma dal ministro Urso pochi giorni prima elogiando l'impegno del sindaco per la questione ambientale. Improvvisamente il 17 febbraio, sabato, si decide diversamente e Bitetti e la Fornaro dichiarano di passare all'opposizione di voler sfiduciare Melucci. Bitetti dice una cosa ancora più grave politicamente. Io dice ora lo voglio sfiduciare, però se non si riesce a sfiduciare tutti insieme torneremo ad amministrare Taranto per il bene dei nostri figli. Quindi un po' Bitetti cosa fa? Dice è come se Bitetti andasse, per carità caro Piero, non fraintendere le mie parole, è solo una metafora, ma tu sei una persona seria e tua moglie altrettanto seria, ci mancherebbe. E' come se tu andassi da tua moglie e dicessi, senti cara io devo ora avere una relazione con un'altra donna, però se questa relazione fallisce io torno a casa con te per il bene dei nostri figli. Quindi io potevo mettere la mia firma di comprovata coerenza accanto alla vostra, accanto a quella di Bitetti, a quella della Fornaro, accanto a quel PD che dopo aver amministrato sette anni ha deciso di rinnegare Melucci, sfilandosi dalla maggioranza appena un mese e mezzo, due mesi prima? No. Io sono un uomo libero e allora ho deciso di mandare a Carte 48 il piano di Michele Emiliano, che aveva già tutto pronto per Taranto, con gli stessi uomini che avevano amministrato con Melucci, doveva impadronirsi, tra virgolette, impadronirsi politicamente di Taranto. Ed era già pronto, Mario Turco o in subordine Enzo Di Gregorio. Bene, io ho fatto saltare il banco perché sono un uomo libero, perché mi piace, sì sì sì, con le mie, qualcuno le chiama pazzie? Sì, pazzie di libertà, far saltare il bancone. E ho fatto un gran casino e lo rifarei altre 10 miliardi di volte. Ma la cosa poi più strana, io sono un uomo libero e ho rapporti diretti con tutti, sia maggioranza sia opposizione. Io sono libero di parlare, di ridere, di scherzare, di abbracciarmi con chi voglio. Ha creato uno scandalo quasi nazionale il mio abbraccio e il mio bacio con Rinaldo Melucci in occasione della Fiera del Mare. I fatti sono andati così. Io ero lì, alcuni consiglieri e assessori stavano insieme a me e sono andato a vedere questa fiera, che devo dire mi è piaciuta molto. E qualcuno mi ha detto, senti, ma tu non hai sfiduciato Melucci, ma volendo ora potreste anche da un punto di vista umano così salutarvi, abbracciarvi, scambiarvi un bacio. E io ho detto, perché no? Qual è il problema? Io sono, ho espresso delle critiche durissime politicamente nei confronti di Melucci, ma mai nulla di personale contro Rinaldo Melucci. Quindi una cosa è la politica, una cosa è l'aspetto personale. D'altronde, cosa si scandalizza Borracino? Che si scandalizza affare Di Gregorio? Che si scandalizza Lonocce e altri? Tanto per fare un esempio, per dirne una, tante volte, fin quando avevo il mio ristorante di mia proprietà, che poi per impegni ulteriori ho venduto, Di Gregorio è venuto anche una volta a cenare nel mio ristorante. E cosa c'era? L'inciuccio? Abbate PD, Abbate Di Gregorio? Tante volte io scherzo e rido, parlo con Lucio Lonocce, ci prendiamo anche il caffè al bar, ci abbracciamo. Non si fa uno scandalo perché Luigi Abbate ha ospitato nella sua trattoria Enzo Di Gregorio? Perché Luigi Abbate si scambia il caffè con Lucio Lonocce? Perché ride e scherza amichevolmente con Lucio Lonocce? Se lo fa però con Rinaldo Melucci, apriti cielo. Beh, scusatemi, devo dire che questa è proprio, chi ragiona in questi termini, ha una mentalità proprio povera, povera e provinciale mentalmente. Passatemi l'espressione. Io politicamente posso criticare chi voglio, pure il Padre Eterno, politicamente. Ma scindo, scindo la politica, l'aspetto politico da quello personale. E poi, consentitemi, meglio un abbraccio, un bacio che una pugnalata politica come hanno fatto Vitetti e la Fornaro. E' il PD che ha rinnegato Melucci. Meglio un abbraccio che un tradimento. Io la vedo così.